in questo video vi racconteremo la nostra esperienza di acquisto su aliexpress come sarà andata? la qualità è accettabile? innanzitutto cerchiamo su aliexpress il prodotto a cui siamo interessati nel nostro caso le frizioni e freno per le nostre moto ovvero una Privia Shira 750 e una Casaki Z650 una volta effettuata la ricerca ci appariranno tanti risultati il nostro consiglio è scegliere il giusto mix tra qualità e prezzo ovvero per qualità intendiamo il giudizio degli utenti che hanno acquistato il prodotto la nostra scelta è ricaduta sul quarto risultato perché rispecchiare le caratteristiche elencate precedentemente e ci piaceva esteticamente non focalizzatevi esclusivamente sul prodotto più economico perché può risultare di bassa qualità con materiali scadenti tipo plastica o materiali non adatti all'uso motociclistico abbiamo guardato le immagini e le recensioni dei clienti una volta verificato che il gradimento degli utenti era molto buono abbiamo deciso di acquistarle allo stesso modo abbiamo seguito il procedimento anche per la Privia Shiver grazie a tutti Dopo diversi mesi di utilizzo non si nota una differenza di qualità rispetto ai regionali, anzi per certi aspetti sono anche qualitativamente superiori. Per esempio la vernice è di ottima qualità e le cinture sono praticamente indistruttibili. In ogni caso se si presentassero problemi o il prodotto non raggiunge le vostre aspettative, il servizio di reso è molto affidabile e nel 99,9% di casa avrete rimborso completo. Nel nostro caso l'acquisto si è rivelato ottimo sia per quanto riguarda la qualità del prodotto sia per quanto riguarda il servizio offerto. Quindi rispondendo alle domande in inizio video la risposta è sì. Siamo rimasti soddisfatti.